Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Le dimissioni di Letizia Moratti da vicepresidente nonché assessora al welfare Lombardo e lei si è dimessa in polemica col presidente leghista Fontana e anche criticando la scelta del governo di far rientrare i medici non vaccinati e lei sicuramente ne sa qualche cosa visto che è stata chiamata proprio per gestire l'emergenza Covid Lombarda. Allora che segnali sono tutti questi segnali? Non sai dove cominciare? Noi stiamo parlando dell'identità di Giorgia Meloni come se Giorgia Meloni guidasse l'M6, 4%. Noi stiamo parlando della rilevanza al governo di Matteo Salvini che ha ridotto la Lega sotto il 10%. Dovendo scegliere un ministro dell'economia all'interno della Lega si è preso l'oppositore di Matteo Salvini. Giorgia Meloni sta rivendicando identità che portano a parlare di predappio, che portano a parlare di adunanze sospese o prese a manganellate. Si trova a difendere dei progetti di legge, dei decreti legge che non credo che interverrà mai la Corte Costituzionale perché non credo che diventerà mai legge così. Non è possibile che esista in Italia una legge per cui se ti raduni in più di 50 persone, uno magari è il Covid, quindi c'è pericolo per la sanità, si possano sospendere. Stiamo parlando, vi ricordate il film con Ugo Tognazzi, Arrivano i colonnelli, iniziava così, con una legge di questo tipo. Allora, stiamo parlando comunque di manifestazioni di identità con le quali non avrebbe mai vinto le elezioni Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è stata votata da persone che si aspettano ben altro. La strizzata d'occhio ai Novax, tutto il Paese si è unito sotto Conte, sotto Draghi e probabilmente spera di potersi unire sotto il Ministro della Sanità scelto da Giorgia Meloni nel caso che ci sia una pandemia. I Novax erano un accidente di quel periodo. Sì, anche perché ricordiamolo sempre, la stra stra grande maggioranza degli italiani, compresi i medici, quelli di tutto il 99%, si sono vaccinati. Stiamo parlando di medici che non credono ai vaccini, stiamo parlando di figure quasi, come dice sempre la Meloni, figure surreali. Stiamo parlando di un'infermiera che tornerà a lavorare, che era quella che aveva guidato la manifestazione vestita per ricordare il dramma, la tragedia di Auschwitz. Stiamo parlando di figure marginali, di figure che non possono determinare l'identità di questo governo, o ve la determinassero. E ve compremiate però. No, ma ecco, o ve la determinassero, la Moratti sarebbe solo l'inizio di una grandissima sfilza di politici che da questa maggioranza si tirerebbero fuori. Sarebbe solo il principio di un grandissimo numero di elettori che questa maggioranza darebbero immediatamente le spalle, perché loro si aspettano ben altro. Ora, vi ricordate Giorgia Meloni durante la campagna elettorale? Cosa va da dire all'Europa? È finita la pacchia? Lina, va a dire è finita la pacchia domani in Europa? No. Va a dire, per favore, c'è spazio per farci recuperare i soldi non spesi nel 2000? Io oggi vedevo i lanci, diciamo, io cambierò l'Europa dal libro di Bruno Vespero, cambierò l'Europa che non va bene, l'Europa del gender. Ma domani andiamo a chiedere soldi, andiamo a chiedere soldi sperando che non siano molto arrabbiati delle cose che un'identità, diciamo, assolutamente non adeguata ai voti che ha preso, veniva rivendicata in Europa. Adesso tutti contiamo e speriamo che questa identità cambi rispetto a chi vuole esucombrare i rave party che sono già illegali. Cioè, tu prima nelle introduzioni dicevi quanti sono i rave convocati, 16 mandati a monte prima che iniziassero. Quindi c'è già una legge per mandarli a monte, l'importante è saperlo usare. Sì, assolutamente, non c'era bisogno, questo lo dicono tantissimi giuristi e molti anche della maggioranza, che non c'era bisogno di una nuova specie di reato. Quante delle persone che hanno votato Giorgia Meloni guardano di buon occhio a predappio? Secondo me tre. Lina, mi dici rapidamente domani come verrà la call?